E' sempre una festa, si respira, intanto un'aria buona perché l'anno scorso pioveva e invece quest'anno c'è il sole. E poi è sempre una festa dei libri, cioè ricordarsi che c'è una comunità attorno al libro che può anche discutere di cose complicate, non avere paura degli aspetti critici di questo momento storico, fa sempre sentire bene. E' scrittore anche, quindi di che libro? Beh, tanti, l'ultimo è qualcosa resta che è uscito un po' di tempo fa, è un romanzo per Feltrinelli. La pagina più difficile da scrivere di quel libro? Oddio, di solito è la prima la pagina, non quando si comincia perché devi cominciare a capire come giocare. E' un romanzo che parla del lutto e non solo del lutto ma anche della voglia di ricominciare, quindi la prima parte che è sempre quella un po' più nera, si fa fatica, poi dopo è tutto, c'è un sentiero luminoso che trovi. Bello vedere tanti giovani in questo salone, cosa pensi del libro e i giovani? Beh, che insomma sono meglio di quanto non fossi alla loro età perché hanno talmente tante distrazioni che dimostrare l'amore per il libro è più forte dell'amore che ho io per loro, quindi è un ottimo segnale. Bisogna proteggere la lettura ma non nel senso di custodirla e basta, bisogna farli innamorare. E quindi questo è uno dei momenti in cui si possono innamorare. Che libro compreresti se riuscissi a decidere uno su tanti? Comprerei un libro adesso, in questo momento esatto? Oh, è troppo difficile la domanda. Non ne comprerei uno, ne comprerei più di uno. La domanda è una domanda, non è di un rimasto. La domanda è stata fatta una domanda. Sì, la domanda è stata fatta una domanda.